andrà volta buona volta allora il sabbolo scontento dove e grazie ci devo torna ecco mostra molti contenti con 18 fucili spienati contro e te vai a destra le truppe ok costruzione completata raffineria di rame finalmente ne potevo più qui solo la caserma qui niente niente qui il fabbro che non mi da soldi quindi niente qui no qui il mercato e qui incazzo ah qui c'è l'ufficio del telegrafo posso farlo diventa ferrovia ottimo ma là c'è una cosa che poi che ho il tempo posso fa una cosa sia fa qualche navetta madonna quanto costano una fregata famola posso ammazzare quel giorno ma posso morire con so ma lo scisci sto cazzine dai no e mo le tasse le pagate e mo sganciamoli soldi per le tasse ancora quattro turni per i fucili e va bene gli obama chi supporteranno in acaoca poi sono amici miei quindi da te da fa oh no non può ricordarsi dei nomi in ogni impresa che saranno il cambio ma ha bombardato il porto quello schifoso bravo il cane abbandona la casa imperiale ma che sega che sede tutto questo è un bomba del porto sto schifoso cane fatto il mercato ozumi finalmente che può diventare distretto finanziario il cazzo la bolla borsa di molti chi è che ha abbandonato il dato ti prego dimmi che non sono amici miei porca voglia erano sull'isola vuoi che ammazzarli ci pensano amici miei dai oh saca fammi un'amicizia madonna transimitare pagamenti richiesta niente qua alleanza difensiva ancora non c'era niente ho visto sui coglioni eh ma quali sono proprio imperatore grande non vuoi allearti con un... chi è il nemico di... con un nemico dei miei alleati e chi è che combatte frate di no? dai sono nemici dei tosa ma che imbecilli vabbè no allora coglioni a vedere come la situazione però tu stronzo mamma mamma fa la spia va secondo me già non cazzo ma non posso marciare che non c'ho l'omini comunque mi faccio un po' le ruppe per tenere buona popolazione quindi vado il coso e qua stanno ingazzati? che sega regà toh magni ti dico come fai? ah una per volta? beh ciao gole ma come fa la cittadina cazzo? basta con i picocchiosi villaggi perfetto questo chiamo mi ha creato questo e va bene che è quello lì che sta su quelli che si sono convertiti i bastardi vabbè sti cazzi guarda come c'è terminato bombardare la provincia un'altra volta ma non mi ha fatto danni meno male costruzione completata oh l'artiglieria da campo finalmente 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 posso fare i cannoni parrot che so fortissimi certo ho tre turni e farne uno vabbè Obama e McCain ecco i traditori schifosi ci pensate voi regà? dai dai chi è queste tre cose? ah le sviluppo del clan poi vediamo un po' uh continui ad esplorare mangiando un cazzo ragazzi ok quelli sono alleati quindi mi posso muovere tranquillamente diciamo ma lì stanno incazzati e manco poco quindi tolgo le tasse e nessuno è più incazzato vedi che annonino dopo mi segui danno? eh non posso costruire nient'altro cazzo Obama ovviamente un po' di naga oca quanto cazzo li sto baciando sul continente tutti i fe dai los shogun insomma ve lo capito qui come andiamo buono buono questa regione non me dà un cazzo in fatto dei soldi però eh porca roia ah la posso fare la città costa solo 6.000 vabbè via 6.000 vabbè la voglia cambare cazzo in una coca c'è una marina immonda no sta provincia bombardata stavolta me l'hanno scocciata che se caccia fatevi una vita costruzione completata la mezzate evviva poi tu stronza ammazzami purca puttana ma come ho ucciso porca puttana cagna vedrà uno straniero ucciso porca puttana amore poi mi serve un porto commerciale non li posso fare ancora ma porca puttana 62% è morto ma Cristo questo 0% che fa esplode porca puttana dove cazzo sta la tecnologia quando un nuovo potevo fa questo devo fare i porti commerciali non la sapete che faccio mo per farmi contenta mi fa la cheiscia che parte da 0% giustamente però vado a costruire qualcosa va non mi vado a fare navi devo fare navi e questo ho 26 cannoni vedrai che spacca le culi guarda quelli che c'hanno oddio non lo so che hanno 5 ma non è schifo vedo cazzo il veterano mi è morto ma come ha fatto oddio oh no quelli solleati uff che strizza le culo se mi ratiscono pure loro però cazzo ferito il nemico è assassinato assassinato oh ah mi stava a provare a ammazzare lo shogun si lo shogun è il day mio due membri di equipaggio un'arbitarnica bra 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 sono stati uccisi a tir rompenza vabbè dai famoli contenti magari mi ricompensano cazzo mi vuole far fuori lo shogun ah no è di qua che ci ha provato lo schifoso aspetta un attimo ah no no mi hanno ferito mi hanno ferito un membro del clan ti schifosi non capisco chi boh il day mio ma il day mio sta qua forse il generale boh cazzo guarda già c'è uno che pugnetta cazzo allora tu cara la mia che inshona guarda solo alzare il generale caro generale tu continui una serie ovviamente ah cazzo qui quando tu stai in una serie non berdo troppo a differenza buona buona sapesse non credo un po' che ci fiamo allora non mi da un cazzo non la sviluppo oddio qua vorrei fa il distretto finanziario ma ma vorrei fa invece questa qui la famo diventare cittadina e via ah sviluppo del clan questo qui che mo c'ho anche i fucili moderni ottimi cannoni e via generale in convalescenza eseguire un po' convalescenza questa generale è tornata in servizio nella capitale scontato in crescita era questo no si solo il generale perché scontato in crescita che c'hanno fammi fare unità da tiro buoni 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 sono pronto il carpentiero ok non ci unimo non è male ne faccio un'altra e via una corvetta di legno perfetto è nato un figlio meno male eccolo qui allora è desaico si bla bla me ne feco un cazzo ok di qua quell'amico no si finalmente fatti i cannoni aspettiamo che se la prendano via qui posso fare un cazzo qui vanno bombardato il porto sti bastardi oh ma qui soffri allo scelibratore si allora che cazzo stanno stai a ingazzare tutto il giorno qui stanno ancora da guasti quindi devo fare un'altra tuffetta a fare la guardia ah giusto la la cosa per sollazza il generale oddio sono 4 mini che fa ma guardare scusate è abbastanza facilina strano però ce l'hanno anche quello ah che sega quando rimane esercito solo che vanno in giro a fare i danni il nostro gran sembri forte fedele cosa l'imperatore come riconoscimento di stato promosso a cancelliere di stato è inverno ok i soldi il cocco dell'imperatore si è capito un brutto stronzo però no no veni qua eh ecco infatti cazzo sempre così sto schifoso mi faccio l'accademia che gelò 3 accademia militare va bene va bene un altro figlio ma donna di che fanno ah no è del è del dei mio ok tu vince cattura costruzione completata oh finalmente che famo c'è officina stiamo a locanda i cannoni ancora un po' ci muovono tu adesso vai in città invece così li fai sta buoni in bo non è cambiancazzo però provincia cattura da clandistrutto ottimo fatto acquisito gusto pelotone certo perché sta sembrando un bordello e va bene direi dei un ragazzo aiuto stiamo pensando i saghi ai miei simpatici traditori a nord alleanza in front ottimo ottimo scontenti in crescita aspetta aspetta stare ancora scontenti con 10.000 con 10.000 fucili l'angolo allora vediamo un po' che costruire nave costruire ottimo qui niente qui niente qui qui sto a costruire qui è solo la cittadina e qui e qui famo la mezzata ovviamente che mi ha tanti bei soldini ok ammazza sopra l'alleati miei come hanno spinto guarda che roba ma boh diplomazia come va questi amicissimi questi ostili questi traitori del cazzo ah i mazue servono no no si servono l'imperatore rendi vassallo oh scusa no 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 che dire guerra dove sta dove sta di chi d'alleanza sta in guerra coitosa sto cardino vabbè lo ha niente poi non lo attaccherò è l'unico in cui posso fare un accordo commerciale dai gli stronzi incontrarsi con gli amici niente l'alleanza non gli piace poi un'ultima cosa io il generale lo posso nominare che capo del personale potenzia gli agenti è meglio lasciarlo che potenzia le tasse e vabbè e va bene questo è l'ultimo turno per questo qui da parte il video lo potrei anche fare più grosso e poi lo divido quindi potrei anche giocare oltranza oh lì cannoni dentro la città ottimo poi qui niente qui capisca ma non mi convince qui sta potenzia anche qui il distretto distretto qui la salata te addirittura aspettiamo un po' allora sto turno lo dedichiamo all'economia all'economia magistrale andiamo a vedere se qualche stonzo mi bombarda tecnologia ancora due turni no no lasciamo un verde oddio questo vorrei potenziarlo no lasciamolo così al momento toh tanto per spizio ecco lala 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 lale woe il secondo della costruzione oh cittadina sua ottimo che famo l'industria artigionale ovviamente manco a dirlo e la scuola di cadetti potenziamo subito caserma ottimo posso fare anche la fantina linea ci fanno un'altra unità per tenere buoni sti stronzi e poi mi sa che va qua stanno incazzati qua stio che è sta novità vabbè muovo il colore d'asso dopo ne parlamo giusto le navi dove cazzo stanno no finalmente quello è fra l'imperatore mi sembra un'infamata attaccarlo oh finalmente sto a posto la gente scoraggiò il fatto che abbiamo con sé ma come ve lo fai in favore ma vaffanculo vaffanculo stronzi rincoglioniti che cazzo capire voi la politica non è la zappa l'uriso allora questo ne fa più 7 non è male questo metà i distretti costano un'area del dio però no io invece che faccio no 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 si riduzione costi di amministrazione oh mo finalmente posso fare il porto commerciale che ovviamente costa uno spavosito immenso ma vaffanculo se volevo la cosa delle tasse vaffanculo vaffanculo ma mi ha dato una spiata quanti so buon cazzo ma aspettavo un po' il prossimo video poi attaccheremo pure questi c'è un territorio solo che me frega anche se è disonorevole ma proprio quanto tempo mi devo tenere sto malus sei turni cazzo che sega un meno tre a tutte le province mi ammazza considerando che su tutte sto uno ecco meno due meno due ora mi scappano mi scappano rivolte e armamo le le province va qui uno perché mi vaga le tasse sennò col cazzo oh siamo matti questo muore vaga eh cazzo questo le vaga ma questo sta contenti ah certo che sta contento c'è l'esercito dentro di bella rimbo stiamo anche qui dunni da quando me ne sciacquo al cazzo fammi un po' di fanteia delle linee e vabbò direi basta così toh fammi un turno per spizio per vedere come vanno queste rivolte dovevi potenziare le fortezze le fortezze aumentano la depressione scontente in crescita e vai e vai dappertutto costruzione completata la mezzata via bungo bango ottimo oh fantastico la provincia è piena togli uno stronzo ecco poi vabbè qui stanno contenti stanno ancora un pancazzati eh dopo vi faccio pure l'industria artigianale qui come stanno meno uno vabbè dai meno uno non scoprirà la rivolta spero quanto costa 4.500 potenzia la fortezza ma è uno sproposito ma è uno sproposito oh ma è un guagno che cazzo non è che ho avuto sti soldi eh sì ho avuto le provinge solo a questa cioè le tasse solo a questa non è che boh daia andiamo a vedere come se che combiano ti va a sollazzare il generale andalo anzi i nobili e niente sì qua potrei fare la bisca ma non è che adesso non serve un po' c'è un sacco di truppa a difendere le città eh qui c'è no troppe ecco qui vanno bene zero qui c'è no poche ma uno dai andrà bene la moglie la bisca dai così stanno contenti cazzo però aspetta quello c'è il tè quando il commercio non fa un cazzo no io gli faccio il mercato cazzo conviene di più eh e vabbè dai l'idea di finirla qui che l'hanno incontrato o da guada ovviamente il fedelio sciogono sciogono guarda questi cazzo guarda che blocchi questi sono amici e me li devo mangiare perché stanno in guerra con i miei amici sì questi po' sono amici dai alleati un accordino commerciale ma sì dai poi oh questi non riesco a farmi gli amici niente niente sacra l'alleanza non ne vogliono sapere questi no come li mai no questi sì però chiedi di l'alleanza mi sono un po' troppo sti stronzi cosa dai l'alleanza benvenuti 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 mi ne ho chiesto mai ma obiettivi come stavo messi provinge condurlare 8x14 mazza oh già sto più da metà provinge leali 32x35 vabbè quelle si convertono musashi qual è ah no aspetta deve essere l'imperatore ah questa musashi è dove sta Tokyo è l'imperatore ottimo questa sarà Kyoto ok sì e lì piano piano si arriva eccoci se Tokyo regge e arriva riesco arriva a Kyoto se voi stanno a fare un lavoro eccellente queste bestie carai sono già arrivati qua giù a voglia voi ho paura che così vincono prima loro che vingo io voi ce può sta cosa che loro vingono la campagna prima di me boh se l'alleato conquista c'è boh ce l'ha anche lui le stesse condizioni vittoria guardate ci può vince se è così appena conquistò Kyoto ha vinto lui può vincere me cazzo però se vince lui dovrei vincere anch'io credo boh rivolta dei samurai vabbè tre rivolte cristo dio buona prima veda a tutti stronzi ragazzo sono buon proprio però queste rivolte sto cazzo le malus qua vendi tutti i fanni lascia tre unità mi piace lo so vaga addio ma schifoso stai lì vaffanculo meno 4 porca puttana vaga ma che cazzo vi mangiate ste botte che puttana che cazzo c'avete e vabbè basta dai andrò il prossimo uno saranno rivolte a bestia devo sopprimere tre rivolte alla fine sono tutti migliori lanceri eh sì però cazzo fammi fare un po' le truppette va cazzo dai qui c'ho il generale ma là no cazzo porca la nave la nave sta lontano non posso manco bombardarli ma posso bombardare quelli stronzi laggiù già rio e lo hanno venuto a f*** che ne dite che ne hanno venuto a f*** vieni già rio e lo a f*** tutti oh raga e basta pagate le tasse brutti stronzi ma pure qui dove sei andati dalle tasse ecco perché guadagno un cazzo e questa è la premila che ne è poco oh questa è la 3.500 mazza oh e vabbè se riesco a tenere la mute ste cazzo di volte vabbè finimola qua va che è meglio rivolte del cazzo e vabbè rega al prossimo video non so neanche se lo faccio appiccicato boh non lo so vediamo come gira ciao ciao ciao